Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e bentornati qui sul mio canale. Oggi torniamo a parlare di iPhone di sistema operativo iOS. Vi presento iMyPhone FixHippo, che fondamentalmente è un software che vi consente di recuperare, di avere pieno possesso nuovamente del vostro dispositivo nel momento in cui l'abbiate perso. Lo avete perso perché non ricordate la password, lo avete perso perché si è bloccato il dispositivo quando l'avete riavviato, oppure si è bloccato l'iPhone sul logo Apple, non sapete come entrare in modalità di recupero di ripristino per installare un nuovo sistema operativo oppure downgradare il vostro iPhone, quindi tornare alla versione precedente. Questo software vi consente di fare tutto ciò in maniera molto semplice, rapida, veloce e davvero guidata. Ve lo mostro in questo video, vi lascio tutti i link in descrizione, potete cliccare tranquillamente su Download, in questo caso sia per Windows sia per Mac OS. Eccoci qui ragazzi con il nostro software. Questa è la schermata principale che vi dà la possibilità di individuare l'opzione più indicata per il vostro caso. Io ho collegato in questo momento al mio MacBook un vecchio iPhone 6. A questo punto cosa possiamo fare? Possiamo entrare in modalità standard che vi consente di ripristinare e quindi correggere i seguenti errori che sono qui riportati. Schermo bianco-nero, modalità loop, boot loop, quindi si va a riavviare costantemente l'iPhone, si blocca sul logo di Apple, oppure errori generici per quanto riguarda il sistema operativo, magari un'installazione di un software in beta e così via. A questo punto possiamo semplicemente collegare il dispositivo al computer. Questa è la modalità in cui l'iPhone deve essere sbloccato, o meglio avete la possibilità di entrare all'interno del sistema operativo, sapete la password del vostro sistema. C'è anche una modalità avanzata, in questo caso come leggete qui, se hai dimenticato la password per il blocco dello schermo o se non riesci a riparare il tuo dispositivo. Quindi nel momento in cui non avete risultati positivi con la modalità normale, entrate in modalità avanzata. Dovete sempre collegare il dispositivo al computer, scaricare il firmware, in questo caso l'ultimo per il mio iPhone 6 è il 12.5.6, cliccate su scarica e lui va ovviamente a scaricare la versione indicata in formato zip. Questo è molto importante ragazzi, perché ovviamente poi andrà a ripristinare questa versione all'interno del vostro iPhone. In questo caso io interrompo per il bene del video, però in quel caso poi la procedura è molto semplice, guidata, dovete semplicemente poi confermare che il ripristino venga effettuato. Un'altra cosa che potete fare è fare un semplice ripristino, un semplice reset del dispositivo, nel momento in cui vogliate correggere degli errori all'interno, oppure semplicemente vi va di dare un nuovo scatto al telefono che è un po' appesantito. Quindi potete, avendo la password per sbloccare il dispositivo, resettare in modo standard il vostro iPhone oppure effettuare un hard reset. In questo caso il prodotto verrà ripristinato all'ultima versione del sistema operativo e soprattutto è consigliato quando dimenticate la password del vostro dispositivo. Ovviamente in entrambi i casi andateci piano perché soprattutto con l'hard reset tutto verrà cancellato sia i dati all'interno sia le impostazioni del dispositivo. Per ultima opzione potete entrare ed uscire dalla modalità di ripristino, questo è molto utile nel momento in cui in alcuni prodotti dovete andare a tenere premuto dei pulsanti tipo il tasto home, nel mio caso con iPhone 6, e non è possibile farlo per svariati motivi perché non funziona più il tasto fisico o non avete più la possibilità di effettuare la combinazione dei tasti richiesta. Potete accedere alla modalità di ripristino oppure uscire dalla modalità di ripristino. Ora in questo caso nel mio iPhone si sta riavviando e entrerà direttamente in questa modalità. Ok ragazzi, questo era il mio video su iMyPhone Fixipo, un altro software davvero ben fatto da questa software house che vi aiuterà moltissimo nella gestione del vostro iPhone in momenti di difficoltà per risolvere tutti i problemi legati al sistema operativo e riportare il prodotto, lo smartphone, allo stato migliore possibile e soprattutto di funzionamento. Se avete dubbi richiesto o quant'altro potete contattare iMyPhone direttamente via email tramite assistenza. Vi ricordo anche che sono disponibile qui sotto tra i commenti, vi risponderò uno ad uno se avete problemi di qualsiasi natura. Io con questo ho concluso, noi ci becchiamo come sempre ad un prossimo video. Vi saluto, ci sentiamo alla prossima. Ciao!